Il consigliere comunale di Forza Italia, Oscar Aiello, punta il dito contro la maggioranza accusandola di voler mettere il bavaglio all'opposizione e di violare lo statuto che regolamenta il funzionamento del Consiglio Comunale. Aiello, a nome anche degli altri consiglieri dell'opposizione, si riferisce alla richiesta avanzata di convocare un Consiglio Comunale per discutere delle problematiche del futuro del centro storico. Consiglio che, così come stabilito in accordo tra l'opposizione e la maggioranza di centrosinistra, ossia PD, UDC e Polo Civico, si sarebbe dovuto celebrare giovedì 9 aprile. Ma all'ultimo minuto, alla richiesta di anticiparlo di qualche giorno, vi è stato un dietrofront da parte della maggioranza. Durante la conferenza dei capigruppo di ieri si è registrato l'ennesimo comportamento scorretto della maggioranza, non solo nei confronti dell'opposizione, ma anche delle persone che noi oggi andiamo a rappresentare. Tempo fa avevamo chiesto la celebrazione di un Consiglio Comunale per poter discutere delle problematiche del centro storico. Questa richiesta nasceva proprio sui stanzi di commercianti, di cittadini che vivono e operano in centro storico. In un primo momento tutti erano d'accordo, quindi anche la maggioranza, nel celebrare tale Consiglio in data 9 aprile. Successivamente, per esigenze sempre legate ai cittadini, noi dell'opposizione avevamo chiesto addirittura di anticipare tale Consiglio Comunale, in modo tale che si potesse celebrare a breve. Poi ieri, durante quella conferenza stampa, non solo la maggioranza ha cambiato idea sulla data del 9 aprile, ma in più invece di accettare la nostra richiesta di anticipare, invece di trovare una mediazione, così come la regola del buon comportamento politico insegna, insegna, hanno deciso, su richiesta del sindaco, di annullare addirittura il Consiglio del 9 aprile e di posticiparlo a data da destinarsi. Questo qui, politicamente, è un atto scorretto, perché vuol dire mettere il bavaglio all'opposizione, che oggi va a rappresentare non solo chi ci ha votati, ma anche chi, avendo votato la maggioranza, adesso si trova deluso, si sta rivolgendo a noi per poter portare avanti le loro istanze. Quando io parlo di bavaglio messo all'opposizione, lo dico con incognizione di causa, questo perché il nostro statuto, lo statuto del Comune, nonché il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dispone che quando c'è una convocazione proveniente da un quinto dei consiglieri, in questo caso sei consiglieri, noi addirittura eravamo dodici tutta l'opposizione, nessuno si può opporre, nessuno può mettere il bavaglio, nessuno può impedire che venga celebrato un Consiglio, lo dice l'articolo 11, l'articolo 13, l'articolo 20, del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, nonché l'articolo 11 dello statuto, perché se questa maggioranza, se il sindaco parla di democrazia partecipata e poi impedisce all'opposizione di portare in aula quelle che sono le richieste, le istanze, dei commercianti, dei nisseni, vuol dire che non siamo più in democrazia, ma abbiamo avviato una sorta di dittatura, gelata dalla democrazia partecipata. Grazie.